E' uno dei fiori all'occhiello dell'offerta scolastica fanese, il plesso scolastico Gandiglio Gentile, da sempre promotore di attività scolastica ad alto profilo, ospitando anche eventi culturali coinvolgendo il tutto il tessuto sociale della città. Da oggi per i suoi alunni poi si è dotato di un nuovo strumento didattico. Presso la scuola primaria Francesco Gentile oggi è stato inaugurato l'atelier creativo, un luogo dove gli studenti potranno sperimentare e lavorare dando sfogo alla propria creatività utilizzando sia strumenti di tipo tradizionale che tecnologie e strumenti innovativi come stampanti 3D e lavagne interattive. Questa scuola ha vinto un bando a livello nazionale per l'allestimento di un atelier creativo che è uno spazio polivalente e polifunzionale ed è un atto doveroso quello dell'intitolazione del dirigente scolastico scomparso, Atos Salucci, il quale ha progettato insieme alle docenti questo atelier ma che purtroppo non ne ha visto la realizzazione e tutta la comunità si stringe ancora una volta intorno alla figura del suo dirigente che io mi onoro di purtroppo, che purtroppo non ho conosciuto ma che mi onoro di voler omaggiare di questa intitolazione. Presenti alla cerimonia anche i familiari del compianto dirigente che iniziò questo percorso all'interno della scuola di cui oggi vediamo un risultato concreto lasciando così un segno indelebile della sua opera. Questo ambiente è polivalente come dicevo per cui possono essere svolte sia attività manuali in gruppo singolarmente ma anche attività di riflessione. Ad oggi i bambini stanno progettando, bambini di scuola primaria, stanno progettando il carnevale, le loro attività per il carnevale. In questo atelier si inseriranno sia attività di produzione multimediale che sia di produzione manuale. L'inaugurazione odierna coincide con l'appuntamento dell'open day, un momento speciale per conoscere le attività che caratterizzano la scuola come il laboratorio di scrittura e giornalismo, la collaborazione con l'Università Bocconi nei giochi internazionali matematici ed il potenzionamento linguistico grazie alla presenza madrelingua inglese e tra gli altri la formazione di Ciceroni del FAI e i progetti RAE in collaborazione con ASET SPA.